Finisce lo stato di emergenza e la Pasqua ritrova i suoi riti, anche quello della via Crucis che manca ormai da due anni, ma quest'anno tornerà. Una su tutte la passione del Signore presieduta alle 20 dal Vescovo di Arezzo Riccardo Fontana in cattedrale, con la via Crucis percorsa dalle 21 in centro fino alla Basilica di San Domenico. Torna anche una delle rappresentazioni più attese, quella di San Zeno, ma con una novità. Con la crucifissione di Gesù, che da 36 anni avveniva sulla collina, quest'anno sarà sul Sagrato della Chiesa. Una scelta per evitare gli assembramenti, circa 60 i figuranti che saranno impegnati. E c'è grande fermento anche a Rigutino, dove anche qui torna la via Crucis, anche se in versione ridotta. A confermarlo è Alfredo Ghezzi, segretario del Comitato via Crucis, che spiega La faremo dopo due anni, ma in versione ridotta. Non andremo alla sassaia, ma faremo tutto sul Sagrato della Chiesa.